Questa 76esima edizione del Festival si preannuncia come una tra le più importanti e più ricche anche di contenuti, non soltanto per quello che riguarda le compagnie che prenderanno parte al Festival, quanto anche per il contorno attorno alla vita del Festival. Ci sono tantissime iniziative molto importanti, molto sostenute anche dalla partecipazione di un pubblico giovanile e di un pubblico anche di competenza, perché voglio ricordare che assieme ai giovani ci sono anche tanti spettatori che cerchiamo di intercettare dagli abbonati all'AMAT e che sono quest'anno molto importanti e significativi. Il Festival Nazionale d'Arte Drammatica è soprattutto un concorso, ma non è solo un concorso, soprattutto da qualche anno è concentrato in una formula più compatta, quindi sono due settimane di festival. Quindi sono tanti gli appuntamenti che si aggiungono a quelli tradizionali degli spettacoli che si contendono i vari premi che poi verranno assegnati nella cerimonia conclusiva domenica 29 ottobre alle ore 11 al Teatro Rossini di Pesaro nella Sala della Repubblica. Dicevo, i titoli degli spettacoli in concorso avevamo già annunciati, ma c'è tanto di più. Il Festival inizierà il 16 ottobre con un doppio appuntamento, sarà la volta del GAD Festival Ragazzi, quel contenitore specificatamente dedicato ai più giovani in un festival che è interamente in realtà rivolto ai giovani soprattutto delle scuole, però con due appuntamenti sono specificatamente per loro soprattutto perché si svolgono anche la mattina. Il 16 ottobre è la volta di Storie vere al 97% di Alessandro Barbaglia, portato per la prima volta a Roberto Mercadini quando era molto poco noto, conosciuto solo da una ristretta cerchia di fan che lo seguiva soprattutto sui social, ora è una star nazionale del teatro che ha un calendario intensissimo però è molto affezionata al nostro festival e ha trovato una data per ritornare ancora una volta per la quarta volta a Pesaro con uno spettacolo tutto dedicato a Shakespeare, i testi sono sempre da Shakespeare ma di Roberto Mercadini che con la sua formula tradizionale di one man show delizierà la platea del pubblico la mattina alle 11 e la data è quella del 24 ottobre e anche la sera replicato per i più grandi che non hanno modo di venire la mattina ma che apprezzano il teatro appunto di Roberto Mercadini. Un altro evento a cui siamo particolarmente legati che verrà ospitato dal festival, ancora un fuori concorso è un evento realizzato in collaborazione con la fondazione Forame e si innesta nell'anno in cui viene ricordata la figura di Franca Rame a dieci anni dalla sua scomparsa lo spettacolo è Pensando Franca, una raccolta di tre monologhi ad opera di Valentina Lodovini, Lucia Vasini e Marina De Iuli che saranno protagoniste appunto di testi tratti da alcuni dei monologhi più significativi di Franca Rame sarà un modo anche per riportare nel nostro festival delle tematiche legate non solo a una grande attrice ma soprattutto un personaggio molto legato a tematiche di sensibilità, di lotta sociale e di impegno civile.